Dunque, è passato un giorno dalla clip che avete visto precedentemente Uno, quanto cazzo era quelli... era... Dunque, allora, uno, quanto cazzo era clean, quella transizione, era stupenda, era fantastica Due... due... In queste 24 ore vi ho chiesto su Instagram quali argomenti volevate che trattassi in qualche mio video, ed eccoci qui con uno degli argomenti, ce ne sono stati tanti altri, ma li terrò da parte per dei progetti futuri, bene, dunque, di che cosa parleremo oggi? Mi sembra doveroso parlarvi di quello che è successo durante questi mesi di quarantena Lo so che l'hanno fatto tipo tutti, ma non importa, non fa niente Lo voglio fare anch'io Perché sì Quindi, cominciamo subito Buona visione Dopo una doccia e qualche taglio più tardi, non nelle vene tranquilli quello dopo Partiamo subito col dirvi... partiamo subito col dirvi... Ciao ragazzi, io sono Lele e benvenuti pure bentornati sul mio canale Parto subito col dir... parto... Mi sono preparato una scaletta, con tutto quello che devo dirvi riguardo a ciò che ho fatto durante questa quarantena Partiamo con ordine Allora ragazzi, questo video è molto particolare perché l'ho registrato in... Tre giorni differenti Credo, circa, quattro, due, uno, tre Insomma, vari giorni, ok? Di conseguenza vedrete questo change di outfit Il problema è che questa clip la sto registrando dopo la clip che vedrete dopo Ok? Di conseguenza nulla, ci sarà questo change e anche alla fine ci sarà di nuovo il Lele con questa fantastica felpa E quindi... avete capito? Spero Comunque, la cosa più importante che secondo me mi è capitata durante questi mesi è la seguente A giorni alterni stavo bene, male, malino, non benissimo, esplodevo, non esplodevo, insomma, varie cose E non era il massimo perché c'erano quei giorni dove ero felicio Che stavo al computer, mi divertivo, giocavo, guardavo film, serie tv, parlavo con i miei amici Poi c'erano quei giorni dove ero più depresso di un canguro Stavo nel letto con How I Met Your Mother Qui me lo sono finito in un mese, neanche tutto, nove stagioni in meno di un mese Bene Appunto, me lo mettevo qui, stavo nel letto con il cellulare, dormivo, non dormivo Guardavo TikTok, Instagram, piangevo Insomma, varie cose E quindi nulla, non è stato proprio il massimo Questa quarantena mi ha un po' distrutto emotivamente Perché prima, credo sia una cosa che è capitata a tutti, alla maggior parte, tranne quelle sociali, nel caso, scusate Facevo parte anch'io di questa categoria, non vi preoccupate, non sto... Comunque, prima io uscivo tantissimo, praticamente ogni giorno con il mio miglior amico Andavo, mi prendevo uno dog, un kebab, la Red Bull, non so come faccio ad essere così magro O andavo al Mac, insomma, tutte queste cose qui E il fatto di non poterlo più fare Mi ha completamente distrutto E mi ha sballato completamente tutto Le mie emozioni, la mia vita Ed è, secondo me, una cosa bruttissima Credo sia capitata a molti di voi Quindi se volete raccontarmi la vostra esperienza Nei commenti non so se volete Quindi se volete raccontarmela in privato Qui c'è il mio Instagram Ma anche qui sotto In descrizione Quindi se volete raccontarmi quello che avete passato Io sono qui per ascoltarvi Quindi nulla, questo è quanto è accaduto Passiamo con la prossima cosa Andando avanti, invece Sono dimagrito nell'arco di, boh, tre settimane di tipo 6 chili Questa cosa non va benissimo Dovete sapere che il primo mese stavo male a livello fisico, appunto Ero molto stanco, non avevo per nulla fame E di conseguenza mangiavo poco E per questo ero stanco, no? È tutto collegato, è un ciclo E quindi anche per questo motivo Mi mettevo nel letto e mi deprimevo Questa cosa non va benissimo Infatti appena l'ho scoperto Ho cercato di riprendere subito i chili Mangiando Male, ma comunque mangiando Perché prima non mangiavo praticamente nulla Andando avanti, invece, ho scoperto Nuovi film e nuove serie tv E se vi posso consigliare qualche film tra i miei preferiti della vita Vi consiglierei The Departed Inception, Ready Player One E tutta la trilogia di Christopher Nolan Del Cavaliere Oscuro Sono dei film davvero stupendi Quindi guardateli se vi va E fatemi sapere che cosa ne pensate Ciao, sono io, il Lele del futuro Passato Prese... Sono il Lele Rosa Dunque, oltre ad aver scoperto Vari film Dei quali non conoscevo l'esistenza Ho scoperto anche vari cantanti E tra i miei preferiti O meglio, il mio preferito tra tutti questi Che ho scoperto durante questo periodo Troviamo Ex... da Sion Ha fatto il boom nel 2018 Quando, purtroppo, è deciso a causa di una rapina All'epoca giravano soltanto due canzoni Ovvero Sad e Changes, se non erro Le ascoltavo in continuazione su Instagram E quindi ne avevo pieni coglioni Di conseguenza non mi sono andato a documentare su questo artista E di questa cosa mi pento tantissimo Perché è un artista stupendo Sad e Changes non sono le sue canzoni migliori Ce ne sono tanti altri Tipo Ayala Revenge Qualcos'altro Insomma, ha una discografia davvero stupenda Quindi vi consiglio di andarla ad ascoltare tutta Perché ci sono delle canzoni davvero toccanti Passa dal genere emo rap, credo che si chiami All'aggressivo tantissimo Quindi, non lo so, è un artista Dalle mille sfaccettature E mi piace davvero tanto E spero possa piacere anche a voi Anche riguardo a questo Fatemelo sapere sotto nei commenti Che cosa ne pensate E nulla ragazzi Questo è quanto è accaduto in generale Durante questa mia quarantena Spero che il video vi sia piaciuto Vi chiedo di seguirmi su Instagram Trovate il link qui sotto in descrizione E qui trovate il mio nome Insomma, io vi auguro una buona giornata Una buona settimana Una buona vita E nulla Alla prossima raga 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 Alla prossima raga